Perché già dal 2014 l'allora capo della polizia ha immaginato subito quindi quali potessero essere gli eventi e gli sviluppi futuri dell'utilizzo dei croni sia da parte dei singoli cittadini che da parte delle forze dell'ordine e delle forze di polizia. Per questo dall'anno scorso il servizio controllo del territorio ha iniziato una sperimentazione formando all'interno della polizia di stato 5 piloti che fanno parte di diverse specialità e poi come funzionario ha formato me in modo tale che ci potesse essere un coordinamento tra il servizio controllo del territorio a livello centrale e la sperimentazione che viene effettuata appunto nelle varie questure. Quindi noi siamo contenti perché questa è la prima volta che ci date questa possibilità di sperimentare questo tipo di drone che è un esacottero come potete vedere e che è stato realizzato interamente da ingegneri italiani ed è stato costruito in Italia in una situazione diversa rispetto a quelle che abbiamo già sperimentato in questo anno. Per quanto riguarda l'esacottero ha la possibilità di avere tre sistemi visivi, c'è una retrocamera che è soprattutto per il pilota, ci sono due sistemi di controllo, ci sono due radiocomandi, uno viene utilizzato dal pilota del drone e l'altro invece viene utilizzato dal pilota dei sensori. C'è la possibilità di verificare anche di alzarlo in volo anche di notte perché c'è la termocamera e ha un'ottica di 30x di ingrandimento ottici normali e poi altri 12x digitali. Come potete vedere c'è una stazione di controllo a terra, quella valigetta che ci consente sia di programmare il volo, quindi in manuale noi riusciamo a gestire il volo oppure in automatico programmando la traiettoria o comunque il lavoro che dovrà effettuare. Quindi con il postore poi ci spiegherà che cosa possiamo fare qui all'interno del festival e durante la manifestazione. Ha una batteria che dura circa 45 minuti, tutti i segnali video che vengono inviati alla sala operativa sono tutti crittografati, quindi c'è la massima sicurezza. La sperimentazione interforse, quindi ci sono sia i carabinieri, la guardia di finanza e altri stakeholders del tavolo istituzionale. Stiamo avendo dei risultati positivi da questo tipo di sperimentazione perché come diceva il signor questore prima, tante attività che prima venivano fatte solamente con l'ausilio degli elicotteri, adesso riusciamo a farle anche con il drone. Senza dimenticare che però l'ausilio e l'importanza del fattore umano è fondamentale sia per l'utilizzo dei droni che per quanto riguarda altre attività. Poi non so se avete qualche altra domanda nello specifico per il drone, possiamo rispondere oppure comunque in serata ci saranno le prime... Il primo volo? Il primo volo? Allora noi faremo un'attività giornata per verificare un attimo anche quali sono le condizioni delle antenne, di come possano eventualmente avere qualche interferenza con il sistema, però domani saranno operativi. Grazie. Grazie.